Ecco qua ragazzi siamo tornati con un nuovo video, quest'oggi andiamo a vedere il giocatore inglese per eccellenza perché è il capitano, perché è un giocatore amatissimo da tutti e anche, soprattutto, dalle donne Stiamo parlando di David Beckham ragazzi, David Beckham Eccolo qui, in sovraimpressione, in basso a destra lo vediamo con la maglietta del PSG, dietro con la maglietta del Manchester La creazione è eseguita alla perfezione, la somiglianza è incredibile Ovviamente dietro è un Beckham giovinotto, davanti è un Beckham un po' in fase calante, mettiamola così Per quanto riguarda la faccia andiamo a vedere i dettagli Un viso pulito, un viso molto lineare, un colore della pelle abbastanza chiaro, poroso Per quanto riguarda la parte sopraccigliare, un sopracciglio molto chiaro, come la sua colorazione in generis In generis, in generale Gli occhi chiari, chiari gli occhi ovviamente Ovviamente lui è biondo Qualche volta si è fatto anche il capello moro Però di base lui è biondo ragazzi Il nasino non grandissimo, abbastanza normale Gli occhi alquanto socchiusi, cioè un po' alla cinese praticamente Non distantissimi tra loro, nella normalità Le orecchie coerenti con il resto, buone dimensioni Per quanto riguarda invece le sagome La parte sotto ovviamente il mento è ben definita, ben lineare I capelli all'insù, ho sempre portato i belli fonati così, doppio taglio E... beh, diciamo che io sono il Beckham dei Mori Non proprio però Vabbè, diciamo che sì, la barba potete metterla e non metterla E... però la lasciamo dai Perché spesso la portate ai scarpini come volete Perché veramente ha fatto 3000 pubblicità sui scarpini Quindi ne ha portate tutte le salse Infatti vedete Mettiamo anche questi un po' più bori Come volete Gli accessori, hai qualche accessorio l'ha portato Alla fine della carriera ha fatto pure 3000 tatuaggi Però non si possono mettere qui Però ci sono E... effettivamente Ci starebbero E... il calcio di munizione Il free kick style suo personalizzato La corsa questa qui credo che sia la migliore per lui Andiamo a vedere nuovamente da vicino Eccolo qua Un fermo immagine proprio su di lui E anche uno su di me Eccoci qua di nuovo Per la chiusura del video Spero vi sia piaciuto Passate nei nostri social Instagram, Twitch e Twitter Instagram per sapere tutte le news H24 Mettete la campanella qui attiva E ciao Ciao